Il nostro servizio presenta la nuova unità OTS, l'innovativo, compagno e estratore di fiume di fiume di fiume, ideale per usare dove i sistemi di fiume normali non possono riuscire. OTS è provato con un kit di connessione rapido per fiume di fiume con 40, 50 o 60 mm di diametro di fiume. Equipto con un sistema di suzione alta pressione, l'air è purificato grazie a un filtro di cartraggio di 99% efficiente. Il filtro di carbone attiva capisce di capire alcune chimiche generate da metà di metà durante il fiume, giocando molti livelli di sicurezza. Grazie alla funzione di pulizia automaticamente, l'OTS sempre ha avuto una performance di top-level che, combinata con la funzione di controllo elettronico e la funzione di start-and-stop, facilita l'utilizzo e riduce l'energia di consumazione. Il riempimento del cartraggio di filtrato è facile, grazie alla grande porta fronte. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!